Buonasera e benvenuti a Now is Everything, entry americana di produzione, girato in America, di produzione americana ma scritto, diretto, montato da due italiani e anche di produzione parzialmente italiana. Now is Everything è una raccolta di Nicolas che è un fotografo di moda e che sta attraversando un momento di crisi sia rispetto al suo lavoro, all'identificazione del suo lavoro, del lavoro che sta facendo, sia perché Matilda, che è la sua musa e anche il suo amore, è scomparsa. Quindi questo film racconta, alla sua maniera, la storia della ricerca di Matilda, della ricerca del mistero che circonda Matilda e probabilmente anche del mistero del protagonista, della scoperta di se stesso, ma anche del tentativo di comprendere, di definire il potere della fotografia e quindi anche il potere del lavorare, il significato del lavorare con le immagini, perciò anche con il cinema. Per sintetizzare molto brevemente l'atmosfera, io direi che sta tra il noir, il thriller, ma anche il flusso di coscienza, il flusso lirico. Cioè un pochino, ve l'accorgerete vedendolo, sta un po' tra David Lynch e Therese Panic. Vi presento i due autori del film, che sono Riccardo Spinotti e Valentina De Amicis. E' presente in sala, c'è anche uno degli interpreti, Christopher Asham, e una dei produttori, Marcella Spinotti. Buonasera, grazie a tutti. Purtroppo, per fortuna, non stiamo per vederci un documentario bianco e nero sull'infanzia di Roberto Baggio, ma ci stiamo per vedere un film molto strano, quindi forse anche un film normalissimo, non sappiamo nulla, siamo solo grati di sentirci a proprio agio qui e far parte di questa esperienza straordinaria. Grazie, grazie e spero, insomma, che ve la godiate. Allora, giustamente voglio lo dire un pochissimo, anche perché è effettivamente misterioso, però, come sapete, alla fine c'è il Q&A e quindi i misteri saranno svelati e vi diranno tutto quello che volete sapere. Grazie e buon divertimento. Grazie. Grazie.